Domenica 23 aprile a Napoli si correrà la Walk of Life, gara di solidarietà a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare organizzata dalla Fondazione Teleton. Dalle 9 di domenica al via la passeggiata di 3 km aperta a tutti ed una corsa competitiva di 10 km. Dalle 8.30 alle 10.30 e fino al termine dell'evento è istituito il divieto di transito veicolare nelle strade interessate. In occasione della Walk of Life sabato 22 e domenica 23 aprile in piazza Plebiscito sarà allestito il villaggio Teleton con attività per bambini e la possibilità di effettuare visite gratuite promosse dai Lions Club.